La prima scommessa che devi fare con te stesso è accettare che non puoi controllare tutto. Noi siamo in diretta 19 ore su 24 come standard, a volte anche di più. Tu sei rilevante per le 24 ore perché tu hai un pubblico che ti cerca quando ha bisogno. È di fatto il primo esempio di consumo on demand. La vera sfida è che tu non sei mai quello che ti aspetta. Grazie a tutti.